E bentrovati in questo secondo segmento di Sala Stampa, trasmissione dello sport, per affrontare un approfondimento ed anche un piacere avere due ospiti in studio, padre e figlio. Cominciamo dal padre, Salvo Scebba, vice allenatore dei Muri Antichi, ti posso presentare così? Beh, ho fatto carriera vice allenatore. Perché sei vice di chi? Di tuo figlio. Esatto, allora è più che accettabile. Aurelio Scebba, bentrovato e benvenuto a Sala Stampa. E allora, allenatore della Muri Antichi? Allenatore della Muri Antichi. Della Muri Antichi, parliamo di pallannuto maschile, parliamo del campionato di Serie B, insomma comunque loro rappresentano tanta storia a Catania e non soltanto della pallannuto. Però vorrei partire da questo, diciamo, da questa vicenda che è sicuramente familiare, ma che va oltre, no? Perché, come diceva, giustamente Salvo, una vita spesa nella pallannuto, quasi 60 anni, mi dicevi prima di contare. Eh sì, sì, purtroppo sì. Sono 58 anni facendo quattro calcoli. E allora, come ti sei ritrovato a fare il vice di tuo figlio? Ti ha chiamato lui, la società, o gliel'hai detto tu, gliel'hai suggerito tu? Beh, il giro, il giro è veramente ambizioso, perché questa società, diciamo, i Muri Antichi, dei Muri Antichi sono stati addirittura socio fondatore, presidente di 12 anni, per 12 anni. E poi, va bene, tante cose in mezzo, tante cose prima, Aurelio che decide di lasciare la pallannuto giocata per andare in panchina. Ha bisogno di un vice e lui vuole una struttura, perché crea, ma adesso lo dirà lui, vuol creare un nuovo movimento, anche partendo dal settore giovanile, ritiene che io sia la persona più giusta per questo ruolo. Ovviamente io ne sono contento più che lusingato, contento perché continuiamo per l'ennesima volta a fare dei lavori insieme. Insieme conduciamo impianti, insieme... Gli hai detto subito sì? Sì, ci ho riflettuto dieci minuti, via, dieci minuti. Dieci minuti. E allora, Aurelio, ti è venuta questa idea, così all'improvviso, oppure te la tenevi dentro, o hai avuto timore anche a dirgliela, a farla... Ma guarda, io quando ho deciso di smettere di giocare, è stato, cioè è stato l'ultimo anno che abbiamo fatto, è stato bellissimo con i Muri Antichi, abbiamo fatto anche i play-off per andare in Serie 1, però veramente ero davvero stanco, tra lavoro, sport, eccetera, veramente è diventato complicato affrontare tutto al massimo, quindi la società mi ha chiesto, visto la retrocessione, tra virgolette, la decisione di andare in Serie B... Era una questione anche economica, del momento... No, ma tutto, per ricreare un movimento totalmente nuovo e mi ha chiesto di allenare, io non me lo sono fatto ripetere due volte. Quindi a quel punto avevo bisogno di creare tutto un nuovo movimento e chi, se non mio padre, potrebbe darmi una mano in questo. Ecco, insomma, da qui è nata, diciamo, questa idea, ed è un'idea abbastanza innovativa, se vogliamo, sul territorio, no? Il fatto stesso che anche la società sia vicina a voi, salutiamo Luigi Spinnicca, il mitico presidente, no? Ma sicuramente, in ogni caso si tratta di unire esperienza e innovazione, tradizione e futuro, le due cose nella vita in genere vanno bene, sbaglia chi butta via il passato senza neanche considerarne il valore, e sbaglia chi, guardando solo al futuro, soprattutto in una società come i muri antichi, appunto, dell'ottimo presidente Spinnicchia, che guarda molto ai valori, alla socialità, eccetera, ecco, questi due elementi non potevano mancare, tradizione, valori, modernità, esperienza e freschezza, perché no? Ecco, Salvo, prima di ritornare da Aurelio, ti chiedo perché è così difficile, e qua lo chiedo all'uomo di sport, che conosce il territorio, che conosce questa città, è così difficile fare sport a lungo raggio, cioè programmare in questa città? Mi piace la domanda perché andiamo su aspetti, appunto, veramente profondi, che riguardano la società, che riguardano anche l'economia, guardate, ecco, la tradizione dice che i ragazzi venivano scelti dai quartieri, tolti dalle strade e portati allo sport, non è più così sicuramente, perché adesso chi, prima era così solo nel tennis, chi aveva i soldi, dicevamo un tempo, poteva fare il tennis, chi aveva il papà ricco, bene, adesso lo sport è fatto per ragazzi privilegiati, perché i genitori sono chiamati nei settori giovanili a fare delle rinunce, dei sacrifici notevolissimi, e allora lo sport oggi costa, il calcio ancora mantiene delle tariffe bassissime, quasi popolari, ma tutto il resto, la palla a volo, il basket, la palla a nuoto, costano a un genitore più di 1000 euro l'anno, il genitore interviene anche nelle trasferte e allora succede che vengono sacrificati tanti strati di popolazione, tanti giovani, forse i più motivati, che non se lo possono permettere. Ebbene, questo è uno dei tanti problemi, poi il fatto che ai giovani non piace il sacrificio, lo sport è sacrificio, mi piacerebbe che questa trasmissione durasse ore e che ci fossero al nostro tavolo, e adesso a un ragazzo lo devi spronare, ma con grandissima attenzione, non devi utilizzare quei modi bruschi che magari i nostri allenatori utilizzavano, ma che hanno fatto crescere generazioni e generazioni di sportivi bravissimi, e quegli allenatori, diciamo di polso, bruschi, chiamiamoli quei, severi, erano amati come padri severi, adesso sono quasi controllati come se fossero degli invasati. Ebbene, la passione si trasmette, la prima cosa che bisogna trasmettere è il sacrificio, la voglia di sacrificarsi, perché senza sforzi non si arriva da nessuna parte, e non solo nello sport, questo lo deve capire la società, i nostri amministratori. I genitori anche in prima linea, gli educatori, ecco, Aurelio è più un educatore o più un allenatore? In questa stagione abbiamo visto qualche fotografia che la nostra regia, lo sicuramente ci ha fatto vedere, dei muri antichi, eravate credo a mangiare una pizza insieme, ad un bel gruppo, eccetera, ecco qua, in questa fotografia qui, ecco, questa conferma della socialità, dell'aggregazione e dello stare insieme, perché comunque questi sono modelli positivi, quando si fa sport, quando ci si riunisce, lo vediamo anche in questo scatto. Ma assolutamente sì, ma ho a che fare per fortuna con ragazzi veramente in gamba, che lavorano, che studiano, quindi ecco, essere educatore di questi è anche difficile, perché sono veramente ragazzi molto per bene. Gli educatori sono tutti quelli che si occupano dei settori giovanili, quindi tutto il mio staff, che sono veramente ragazzi della prima squadra, quindi ecco che si trasferisce quello che ti dicevo, i ragazzi della prima squadra allenano i giovani della nostra società. Quindi, beh, diciamo che faccio entrambe le cose, sia l'uno che l'altro, c'è l'educatore, che l'allenatore sicuramente. Eh, queste generazioni sono cambiate rispetto a quando giocavi tu, quando hai cominciato, hai cominciato a otto anni? A otto anni, sì, a otto anni, ho già quasi 29 anni. Quindi sì, siamo totalmente diverse, generazioni completamente diverse. Noi avevamo comunque fame di allenarci, di sfondare. Di arrivare. Di arrivare a un sì, esatto, di dimostrare. Esattamente, adesso è un po' più complicato dargli questi obiettivi e stimolarli. Stimolarli. Motivarli. Esattamente, anche qua i genitori devono essere anche bravi, gli fanno fare tantissime attività, eccetera. Ma ti chiedo, succede come nel calcio che i genitori pensano che i loro figli siano dei campioni? Questo capita, questo capita, questo capita spesso. Capita. Però devo dire che abbiamo, per fortuna, per fortuna abbiamo ragazzini e genitori in gamba, che fino ad oggi non ci hanno detto nulla di questo, cioè nel senso, ci stanno facendo lavorare in tranquillità. E questo è molto importante. Salvo, dico, approfondire i genitori, perché quello è un argomento principale. Economicamente, molte famiglie non si possono permettere, soprattutto in questo territorio, di mandare i propri figli spesso alla scuola di calcio, di pallavuoto, di tennis, di pallavuolo, di basket, eccetera, eccetera. Perché devi comunque pagare. Chi paga dei tassi in questa città, peraltro, non ha dei servizi, perché ora entriamo anche nell'ottica dell'impiantistica. Potremmo entrare in un'ottica importante da affrontare in una carenza, perché negli anni la situazione è peggiorata a Catania, non è migliorata. Adesso qui non stiamo a giudicare o a fare processi, però sicuramente Catania è una città che vieta lo sport. Se non vuoi andare a correre sul lungomare, a farti la tua passeggiatina, o a correre sempre se non rischi di essere travolto, perché sappiamo che la pista ciclabile è per due chilometri, un chilometro e mezzo, ed è solo sul lungomare. Allora, Catania è una disperazione. Vivere Catania negli ultimi anni è stato veramente, è una disperazione. Ma devo dirvi che nel campo degli sport natatori è quasi un'isola felice, cioè è stridente quello che sto dicendo, sembra pazzesco. Rispetto a Siracusa e a Palermo, che pallannotisticamente sono punti avanti rispetto a noi. Oggi hanno le formazioni in siciliano. Quindi il problema è un fenomeno siciliano a dir poco, a dir poco. Palermo ha la piscina comunale chiusa un giorno sì e tre giorni no. Siracusa ha la piscina comunale chiusa, chiusa per problemi di caldaia, eccetera. Ebbene, Catania ha due piscine comunali affidate a privati, ma due piscine comunali che funzionano. Quindi in questo senso Catania, paradossalmente dico, è privilegiata. Questo è un dato positivo. Sicuramente. Poi a Catania ci sono tanti impianti privati. Quindi ecco, la Catania del nuoto è un raggio di sole. Sembra paradossale in una città dove manca tutto, dove manca regola, manca ordine, eccetera. Dove si vive in emergenza. Ritornando al discorso importantissimo del reclutamento, del far venire voglia, eccetera. Ebbene, mio padre non ha speso mai un euro per... E io ho fatto una vita di sport. C'erano, allora, i partiti politici. C'era la Libertas, c'era la Wisp, che girando coi pulmini prendevano i ragazzi. C'erano gli oratori che, ripeto sempre, toglieranno... Ebbene, tutto questo si è perso. Le società vivevano, sì, di contributi da parte dei partiti centrali, eccetera. Questa funzione, insieme alle altre, i partiti politici l'hanno persa. E nessuno ha raccolto questi testimoni. E poi una denuncia. Ecco, mi permetto, Umberto, la nostra amicizia me lo consente. Ci sono gli sponsor. Gli sponsor puntano solo al vertice dello sport. Vuole il risultato o vuole essere il primo? Ma perché non ci sono sponsor che investono sul sociale? Entrerebbero nelle case di tutti e di tutti, e soprattutto nello sport minore. Perché il calcio, il calcio deve essere vincente, deve essere bandiera. Adesso abbiamo avuto la fortuna di avere questo sponsor ritornato dall'Australia. Ma tutto il resto dello sport, assolutamente. Mi ha parlato Cicciolodi nella mia parte della traduzione. Che sembra e sarebbe una salvezza che voglia guardare anche agli altri sport, probabilmente creare delle polisportive. E questo aiuterebbe certamente tantissimo. Ma tutti gli sforzi che sono stati fatti, ogni contributo che è stato dato dallo Stato, dalla regione, eccetera, si è sempre speso per l'evento che lascia pochissimo. Ecco, sono d'accordo. Oppure il vertice, si compra lo straniero. Con quello che guadagna uno straniero si pagherebbero 30 rette mensili per lo sport di un ragazzino. Ebbene, questo fa muri antichi, questo deve fare lo sport sociale, questo devono fare le società sportive. Dedicare, mi taccio, una parte al sociale. Allora, ci saranno 30 paganti, ma ce ne saranno anche 10, perché poi da quelli avremo più risultati. Perché lì ci sono gli occhi che si insanguinano, lì c'è la rivalsa, lì c'è il riscatto sociale che i ragazzini con la pancia piena non sempre hanno. E torneremo su questi argomenti, te lo promettiamo come redazione di Sicrapress all'interno di Sala Stampa, perché spesso affrontiamo questi argomenti, perché ci accorgiamo anche che in campagna elettorale nessun politico di qualsiasi partito, da destra a sinistra, fammi utilizzare questo termine, l'arco costituzionale, ha mai parlato in campagna elettorale di sport. Ma non di sport della squadra di calcio o di basket che vince, di sport di base. E' quello che educa, perché chi paga le tasse avrebbe bisogno, è un ritorno normale, di una disponibilità di impianti anche pubblici. Non c'è dubbio, a tariffe agevolate. O a tariffe agevolate, il mondo è cambiato, ci mancherebbe. Però questo sicuramente. E Catania ha tanti impianti, che tra l'altro sono in parte inagibili, in parte affidati anche alle società, fortunatamente, per non far morire quella speranza. Però sappiamo che molti dirigenti, e qua torno al discorso dei muri antichi, fanno sacrifici enormi, enormi. Spesso magari trovi anche lo sponsor, perché è il padre di un ragazzino, di un gioco di una ragazzina, e allora ti aiuta con le tute, ti aiuta con i borsoni, con l'abbigliamento in generale. Insomma, si fa quel che si può. Allora, riusciremmo un giorno in questa città a guardare oltre il nostro naso, cioè andare oltre. Speriamo. No, dico, tu sei nelle nuove generazioni, no? Sì, ma speriamo, ovviamente. Bisogna, ha prodotto di progetto, così andiamo a chiudere il discorso. Certo. Parlevamo anche di progetto, voi avete un progetto. Assolutamente sì. Con questa ripartenza dalla serie B. Sì, abbiamo creato di nuovo la volontà di creare dal basso, abbiamo tantissimi under 12, prendiamo dalla scuola nuoto tutti i bambini, possibile, li facciamo avvicinare alla palla nuoto, sperando che si possano appassionare, abbiamo due squadre che hanno giocato ieri e hanno fatto molto bene, poi si sono divertiti, questa poi è la cosa principale. Giocando a questo sport e speriamo che ci siano sempre più bambini, comunque come era fino a qualche anno fa, poi il Covid un po' ha creato un po' di scambigli. C'è una ripartenza e speriamo ci siano le basi. Tra l'altro, parlando del campionato, avete vinto contro la Polisportiva Cede, avete vinto anche la settimana precedente, se non sbaglio. Sì, con la Briz, con l'altra squadra scese. Come siete in classifica? Siamo quinti a ridosso di playoff. Ma il vice allenatore ogni tanto ti critica? No, parliamo spesso, parliamo spesso, soprattutto dopo gli allenamenti. Ma ti critica tuo padre? Ma critica no, critica no. Costruttive, sicuramente, hai sbagliato a fare questa cosa qui, insomma, ci pizzichiamo, ci pizzichiamo. Il vice allenatore deve essere una presenza, non deve essere uno yes man, deve essere propositivo, ma poi le decisioni ovviamente rispettano all'allenatore. Ma ogni tanto discutiamo, 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 sappiamo lavorare insieme, siamo collaudati, ecco sicuramente. Prossimo impegno? Prossimo impegno, sabato con la Club Noto Salerno. Quindi sarebbe sabato 4 febbraio. Sì, esattamente. Giocate? Annesimo alle 16.30. 16.30. Ci pizzichiamo il quarto posto, cioè la posizione per che ci candiderebbe il playoff. E in ogni caso, Moriantichi, ripartendo, non ha necessità di essere subito di nuovo ripromossa. Deve ricostituire la torta, la torta fatta di atleti della società e non in prestito, non acquistati, eccetera, eccetera. E poi a questa torta bisognerà aggiungere solo le candeline e non sostituirla con quelli che vengono da fuori. Ma infatti abbiamo quasi tutti il nostro vivai, grazie al nostro vivai. Anche prima squadra. E voi due, guardate, mi sembra di capire un po' tutto il panorama. Esattamente. Quindi, da che età fino a che età? Dagli otto in su. Dagli otto in su, fino ai 60 e oltre. Fino ai 65, con orgoglio. Ma io sono ancora atleta, 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 che tra l'altro gareggia lui, su gareggi. Certo, certo. Mi ricordami dove, ultimamente sei stato... Ultimamente ho acquisito il titolo di campione europeo, oltre che nazionale, lo dico con tanto sorriso. Lo ho chiesto io, dai. Ma in questo senso cerco di predicare... Campione europeo di? Di pallannuoto, certamente, master. E in questo cerco, cerco di predicare che lo sport e l'attività fisica, soprattutto, cioè va bene, fa bene a tutte le età e anche ai vecchietti come me. Ti aspetto presto in studio. Sarà veramente un piacere parlare degli argomenti che abbiamo presentato. Assolutamente sì, è una promessa come redazione, quindi ti aspettiamo, vi aspettiamo per parlare di questi argomenti. In bocca al lupo ad Aurelio Scebba. In bocca al lupo ad Aurelio Scebba, anche da parte del vice allenatore. Anche del vice allenatore.